E' tra i momenti più emozionanti della festa, la visita della Madonna della Pace tra gli ammalati. La Vergine viene infatti portata in tutti i reparti dell'ospedale San Giuliano, stanza per stanza, così che tutti i pazienti possono pregare per qualche minuto al fianco della Madonna. Trasportata al fianco di ogni ammalato dal reparto di ortopedia a quello di ginecologia, una consuetudine che si ripete da anni, ma che da sempre emoziona dei genti e non solo. Un momento toccante per medici, infermieri, ma soprattutto per gli ammalati, che hanno così la possibilità, nonostante la degenza, di partecipare al momento di festa e di preghiera e di vivere qualche minuto di raccoglimento con la Vergine. Quando si parla di ospedale, quando si parla della Madonna, si toccano sempre certi sentimenti. E' impressionante vedere la gente che si comuove davanti alla Madonna della Pace. L'ospedale è stata sempre così. L'ospedale è stata sempre così.